Ho una pianta di limone, ho appena acquistato una pianta di limone, come posso andarla a potare e fare in modo che crescano un sacco di limoni come questo? Oggi te lo faccio vedere. Ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Oggi con questa pianta di limone andiamo a fare un pochino di manutenzione. La nostra pianta di limone è stata ben curata durante l'inverno, l'abbiamo ricoverata in un posto che l'ha aiutata a crescere, infatti andiamo a notare subito che è piena di limoni. Siamo ormai in primavera quindi andiamo a fare qualche azione un attimino più vigorosa. Ma da dove dobbiamo partire? Mi raccomando iscriviti subito al canale per avere anche tu limoni belli come questi. Fallo perché molti di voi si perdono alcuni video che sono veramente importantissimi. Se ti iscrivi ti arriva la notifica e vedi subito il video che ti interessa. Andiamo a togliere prima di tutto tutte le erbe infestanti che sono nate nei pressi del tronco. Andiamo a tenerlo bello pulito, anche perché qua sotto si nasconde l'opera più grande di potatura che dobbiamo andare a fare. Ma anche di attenzione, nel caso tu abbia appena comprato una pianta di limone, ti ricordo di andarla a rinvasare in un vaso bello grosso come questo qua. La regola buona dice che tutto quello che vediamo sopra la terra c'è anche sotto la terra. Quindi il vaso deve essere adeguato alla parte, diciamo, a verde che abbiamo. Una volta che abbiamo pulito ci accorgiamo subito, prima di tutto, che sono partiti dei polloni dalla base. Questi polloni qua vanno assolutamente tolti. Tutte le piante di agrumi sono innestate sul selvatico. Cosa vuol dire? Che vengono prese delle piante di agrumi selvatici, di solito hanno un frutto che non è gradevole, e viene innestato sopra invece la varietà di agrume che vogliamo. È per quello che se noi facciamo germinare il seme di limone, lo facciamo crescere, non ci va a produrre lo stesso limone da cui abbiamo preso il seme, perché dal seme nascerà il selvatico. Ora, a noi non importa far crescere selvatico, quindi andiamo a togliere alla base tutti questi polloni. Non ci servono a nulla. Andiamo a fare proprio un'opera di pulizia a 360 gradi. Personalmente tendo a tenere tutta la base, i primi almeno 15-20 cm, sempre belli puliti. Questo perché voglio stimolare la chioma piuttosto dopo a crescere a palloncino, e perché vorrei cercare il più possibile di far capire alla pianta che deve creare meno polloni a selvatico possibili. Una volta fatto questo, andiamo a controllare sin da subito se ci sono delle parti di radici che sono aeree, quindi andiamo a coprirle per bene. Questo qua può essere un ottimo risultato. Farmer, dopo un anno e finalmente online, piantaggine, il mio primo vino rosso. Ti lascio qua sotto il link in descrizione per poterlo acquistare. Tutti quelli che lo acquisteranno per la Pasqua, naturalmente, avranno anche la dedica con i miei auguri. Te lo lascio qua sotto in descrizione. Festeggia anche tu Pasqua e Pasquetta con piantaggine e con me. Per quanto riguarda la concimazione, andiamo a utilizzare due prodotti. Il primo, il concime per agrumi. E' una formula granulare. Il granulare è una lenta cessione, quindi andiamo a dare il cibo alla nostra pianta piano piano. Andiamo a dare una bella manciata alla nostra pianta. In questo modo. Tenete conto che stiamo coltivando la nostra pianta in vaso, quindi non c'è un apporto di sostanze nutritive alla nostra pianta, se non quello che diamo noi. La regola migliore per dare il concime è non far mai mancare cibo alla nostra pianta, quindi darlo in modo scadenzato. Io ogni tre mesi vado a concimare. Fate conto che un sacchetto del genere, quindi una confezione da 750 grammi, per capirci, basta per più di un anno per una pianta del genere. Nei momenti di maggiore stress della pianta, quindi ripresa vegetativa, per capirci, primavera. Nei momenti in cui vediamo che la pianta incomincia a fiorire, o prima dell'autunno, io utilizzo sempre del concime liquido. In questo caso è un concime per agrumi. So che molti di voi facendo l'orto, hanno come concime liquido l'algasan, che si usa benissimo anche nell'orto. Potete al limite utilizzare anche quello. PS, lo so che lo conoscirete tutti, ma l'algasan è proprio questo. Di sicuro questa concime per agrumi è dosato meglio per le caratteristiche degli agrumi, naturalmente può andare bene anche l'algasan. Andiamo a seguire tramite il tappo dosatore e vi faccio vedere come darlo perché... Ok, gli andiamo ancora. Ok. Vi mostro come andare a innaffiare. Allora, andiamo a fare un primo bagno. Vedete che la terra è umida? Il suolo direi che è ottimo. Ci stoppiamo. Deve andare via tutta l'acqua presente. Aspettiamo un minuto e ridiamo l'altra metà di innaffiatoio. Cosa stiamo facendo? Stiamo provando a dare in modo graduato il nostro concime liquido in modo tale che riesca a essere assorbito al meglio dalle nostre radici. Una volta concimato vado a mettere sopra della segatura sopra il mio terreno. Oltre a essere bello esteticamente va a proteggere le radici dagli sbalzi termici. Tenete conto che le radici ne soffrono particolarmente. Nel caso tu non abbia della segatura puoi benissimo utilizzare della paglia. Non andare a utilizzare gli sfalci dell'erba perché contengono dentro semi e quindi dopo ti parte tutta una serie di erbe infestanti che nel caso della coltivazione del limone in vaso non sono proprio ottimali. Il limone non è una pianta che richiede grandi potature quindi oltre ai polloni è difficile dover andare a tagliare altri rami. Questo perché tende a dimensionarsi in base al vaso che l'abbiamo messo. Più il vaso è grosso più tenderà a aumentare di volume. Una cosa che di sicuro si potrebbe fare con una pianta del genere è andare a cambiare questo qua potremo farlo già anche l'anno prossimo la struttura di legno aggiungere un altro livello per rendere ancora più maestosa la nostra pianta. Andremo a prendere i nostri rami e andremo a legarli. In questo caso non lo andiamo a fare preferisco che cresca un attimino ancora. Come vedi comunque con tutta questa cura la produzione è veramente veramente ottima. A naso vi direi che ci sono più di 3-4 kg di limone. forse 3 kg. Sì, dovremo vedere a fine produzione però 3-4 kg di limone ci saranno. Ora, spero che questo video ti sia piaciuto ti sia servito ti lascio in descrizione tutto quello che abbiamo utilizzato. Se hai comprato una nuova pianta di limone prendi un vaso grosso e un ottimo terriccio aggiungili anche delle perlite per rendere più soffice e più drenante il tuo terreno. Ricorda di iscriverti al canale mettere un bel mi piace Farmer, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Farmer, dopo un anno è finalmente online Piantaggine il mio primo vino rosso. Ti lascio qua sotto il link in descrizione per poterlo acquistare. Tutti quelli che lo acquisteranno per la Pasqua naturalmente avranno anche la dedica con i miei auguri. Te lo lascio qua sotto in descrizione. Festeggia anche tu Pasqua e Pasquetta con Piantaggine e con me. Grazie a tutti!